Ciao Stronomers! DUE è uno dei problemi che dobbiamo affrontare quando usiamo telescopi, soprattutto in condizioni ambientali di alta umidità. E con aggiungere l'Echo all'Eagle, puoi automare DUE Heater di mangiamento basato sul DUE point, che è calcolato in real-time usando l'Echo sensore. Ma cosa succede se DUE ancora condensa sui telescopi optici, anche se hai il sistema DUE Heater con l'Eagle e l'Echo? Queste sono i nostri consigli! Prima di tutto, ricordatevi che il DUE è automaticamente applicato a DUE Heater solo quando il DUE point, che puoi vedere nell'Echo Interface, è più alto da la temperatura del tubo, che è mesurato dalla prova di temperatura esternale. Se il DUE point è più alto, ma DUE ancora condensa sui telescopi optici, potete fare un semplice test in order to check that the automatic DUE Heater power works as expected. If you directly blow to the sensor of the echo, where you can see small holes on the side, this will progressively increase the DUE point temperature, as shown in Eagle Manager. When DUE point temperature will become higher than temperature measured by the external probe connected to your tube, Eagle Manager will start powering the DUE Heater. Temperature increase will be low, but you can wait for a few seconds and feel the DUE Heater becoming warmer. This means the entire heating system works as expected. Finally, if the entire system works, but you still have view on your optics, you can enter in the Eagle Manager advanced settings and increase the delta value, for example to 2 or 3 degrees. Delta is a temperature value in degrees that is added to the DUE point temperature. temperature. The larger it is, the sooner the DUE Heater is powered. This is important especially when you use larger telescopes. For more content that will help you to explore the universe like a pro, subscribe to our channel and clear skies!